Bisogna essere molto pronti. Quanto Massimo diceva che bisogna essere pronti, bisogna essere pronti. È un'esperienza bellissima da fare ma con un buon background. Bello intenso, si cresce tanto, si cambia tanto, si scoprono dei lati che non sai di avere. Anche a livello non solo fisico ma anche psicologico. Vedi tutto da un altro punto di vista e capisci che non è semplice far faraiarti quello che magari fai tu. E scopri anche che quello che fai tu, che pensavi che andava bene, probabilmente era sistemato. Io ho fatto sempre sport da combattimento. Poi ho scoperto il formagà perché ho fatto sempre per difese personale. Ho scoperto che è un'area molto grande in cui vai investito tempo, energie, ma anche tempo, anche studio. A presto! 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 A presto!